Signori miei, ci risiamo, io direi di saltare il tutorial perché sappiamo tutto Non è vero, è una bugia, in realtà prenderemo delle legne in mane Allora, mettiamoci al lavoro Quindi siamo ufficialmente diventati soci con il nostro amico Abbiamo fatto un minimo di carriera Devo estraggo l'arma, eh Attacco corpo a corpo, vabbè, è il classico di COD, eh Pistola fa un po' cagare, ho altre armi Ah no, mani nude No, lascio l'arma, lascio l'arma, figliati di me Non ho torce per ora Eccomi qua Clicco io i tasti Clicco io, clicchi tu Non ne ha cliccato nessuno, va bene La prima puntata è stata molto interessante Ok Sospetto rapido Potrebbe essere già morta, non so se siete in tempo Ok Noi siamo arrivati in tempo, Bug Tu non sei qui, ma anche tu fai parte di questa squadra Ah, lo sai Sì Uh Carte Carte e dischi in vinile Non me ne privo, te lo dico io che non me ne privo Guardiamo sempre bene Rimbalziamo il K1 L'implista risalda il 15% di salute Ma io lo prendo così Magari posso Tutta roba che possiamo vendere Ti sparo Entra vecchietta Entra, ti sparo Su, su, su Riesci a forzarla, V Io devo forzarla Ma l'hai visto, lui? Hacker alla porta Come l'hacker? Preavviare l'hacking rapido Guarda il dispositivo E scansionalo Tenendo premuto LB Porta Eseguo Oggetti interessanti come bottino, scorte Questa cos'è? Siamo arrivati tardi E lei È la nostra donna V Un attimo Cos'è? Ah beh, è stato un'indulzazione Aumentare il 15% di resistenza massima Ah beh C'erano delle armi volanti Eh, non è morta ma Madonna, cosa gli hanno fatto? Cosa gli hanno fatta? La immunità corporativa Esce non due La nostra è altolocata Questa è a riproduzioni Z-Tech Da mercato nero Impianti da quattro soldi Cerchiamola Mancante Vediamo, eh Qua succede Qua succede casino Perché lui ha due pistole Io ho una pistola sola È andata male Ce n'era uno solo Madonna Ma cosa sto vedendo? Non sono Fateli voi Ricordati Non potete estrarre Il bersaglio Se il fuoco nemico Non potete risparmi La schiena Ehi, c'ho la testa No Direi di no Posso prenderla? Quante pistole hanno queste qua? Berretto Aspetta Inventario Allora, due Io adesso ci metterei Questo E quest'arma qua La pistola Allora L'altra 55 29 Due attacche al secondo Un po' più veloce L'altra La metto Perché questa è più Sgun away Mazzola Che armetta Non c'è nessuno qua Bella quest'arma qua Mi piace Ok Tutto io devo fare Carica Questa è Questo è un mitragliatore Non me ne faccio niente Queste pistoline qua Sono interessanti però Non so ancora che cosa fa Perché c'è troppa roba Da spipolare Per Azioni pistola Altro Questo L'altro è il numero uno Sono quasi morto Eh l'abbiamo seccato Sì Smortatore Ma non so cosa serve Tutta sta roba Questo è un bell'armone Prendi E Euro dollari Euro dollari Mi interessano 4 e 3 Di armatura Ma non me ne faccio niente Euro dollari E gli è che cosa va Né Fammi un po' vedere Inventario Livello necessario 2 Ah dobbiamo salire di livello Ok Qui abbiamo altre armi Questa fa 54 9 danni Fa schifo Smonto Mitragliatore No Va bene Smontato tutto Cos'è? Non lo so Mi tengo la pistolina Va Perché Potrebbe Aiutare La pistolina Siamo fuori Siamo ufficialmente Nel panorama Di cyberpunk Guardate che bellezza Dai Non è bellissimo È bellissimo Questi sono pazzi Che vado laggiù Ok Apriti Sesamo Ma qua è un disastro Ragazzi Qua è tutta gente Morta Sono tutte e due Morti Credo sia lei L'obiettivo Ci siamo È viva È anche una gnocca Sto per scoprirlo Vi collegati al suo biomonitor Devo capire come va Mi collego La vedo grigia Scusa Dove glielo ho attaccato? Pannello biomonitor Ma che figata È pure una gnocca È pure una gnocca Ma pensa a te Caraca Dovresti vedere Dovresti vedere Sto posto Ci sono vasche Ghiaccio Gente nuda Ok Ok Tiralo fuori È quello che silenzia Il biomonitor Ho trovato lo shard Lo tiro fuori Cos'è lo shard? Controlla il biomonitor È cambiato qualcosa D'accordo Se sei cosciente Assumi la posizione Di recupero Un'unità D'evacuazione D'emergenza È stata inviata Alla tua posizione E arriverà Tra 180 secondi Bene Secondo il biomonitor Fra tre minuti È arrivato Ok Quindi possiamo lasciarla qua C'è un'assicurazione Per curarsi Dei danni Tiriamolo fuori dal ghiaccio Mal funzionamento Perché eravamo È proprio nuda Che cos'è? Bella madonna Ma è bellissima Cazzo ha funzionato Fuera Portala fuori Ma è che Gnocca questa qua Guarda cosa sto vedendo Portala fuori Sulla balconata Cosa sto vedendo? Sulla balconata Mettiamo una nuda Eh che faccio La butto giù? Atterraggio Allontanarsi Inizio protocollo Di sicurezza Seguire le istruzioni Salvala Fermati sulla soglia Sì Signori Signori Lascia a terra La paziente Lasciamo a terra Mi dispiace un po' Lasciarla andare Però Bella madonna Attende che il trauma team Soccorra Sandra Sandra? 133 a comando Paziente NC570442 Perché mi vogliono sparare? Stimolanti somministrati 70 mg di dopamina 110 di 9 Secondo voi se io entro qua mi sparano? Non ci provo Sinceramente non ci provo Andiamocene L'ascensore ci porta direttamente al garage No zio Spero che la pace si risolva in fretta queste cose E migliora un po' l'ottimizzazione Anche se adesso va molto meglio No Ho un appuntamento con Misty Ma non posso prendere la metro Che figura ci faccio? Non posso abbandonare un amico Ma non farci l'abitudine Dai Mi salvi il culo Grazie Che ne dici? Se ti porto a casa Dai È tutta tua Io sono distrutto Ah quasi dimenticavo Facciamo un olo chiamata A Wakako Per dirle che abbiamo finito Per accendere la menu del telefono Ti è venuto No Ho sbagliato Wakako Okada Sì? Ma che bellezza Ma è una figata bestiale Bisogna capire anche un po' Come funziona questo mondo Perché la gente è diventata così È una roba penso Diversa da quello che ci aspettavamo Ma per ora mi ha colpito davvero molto Lo shooting è molto fisico Potete passare a prenderla Sono molto molto contento Sta andando bene Sta andando bene Vorrei Comparare un po' di più la grafica Ma ho paura di non riuscire a registrare quant'altro Ok Qua succede però casino eh Da mettere Watson in isolamento Se stanotte voglio dormire nel mio letto Dobbiamo sbrigarci Lascia fare a me in mano Guido io Va bene Ci sono comprati una bella macchinina Anche se io preferivo l'altra eh Torna indietro Con Jackie Il nuovo incarico Torna indietro con Jackie Perché vabbè Per ora lo facciamo così Perché ci sarà anche una bella zona d'esplorazione Siamo in città eh Molto cupo Piove Quindi ovviamente Qua c'è Qualcosa qua Guidiamo con caro Una città come un'altra Solo più grande Voilà Anche prodottino Perché Manu mi chiama? Ah lo sai C'è un pacco lì Vedo dalla mappa eh Non vedo l'ora di fare qualche puntata di esplorazione pura Di questo gioco qua Che secondo me saranno veramente importanti eh Seguiamo bene la trama perché Han detto che è interessante Dura anche abbastanza una ventina di ore Quindi avremo parecchio tempo da stare insieme E questo? A chi sto sparando? Non riesco vai dritto Dottore Non ha sound Non c'è suono in questo fucile Cazzo scusa Fa' la c***a bastardi Lì lì ero fratello Che schifo Non va il suono Ma come va si Ok Torna niente con Jackie Sconfiggi Scavenger Oh C'è sempre casino quando guida lui però eh E' strano Non so cosa sia stato questo suono Non lo so C'è qualche baghetto Ne abbiamo visto più di uno Ma ci sta un gioco talmente grosso Questo qua E' uscito Oggi è il day one Quindi direi che Va bene così Va bene così Vediamo un po' più avanti Come si svilupperà eh C'è tanto da scoprire Tanto da fare Jackie intanto Ce lo stiamo portando dietro Già da sei mesi Dopo quel piccolo casino Dovuto alla dogana E questa è una grana eh Ma io ci abito Ma al funzionamento E cosa avrei di così speciale Un cuore d'oro Perché solo qualcuno Con un cuore d'oro Può capire Quanto è importante Che io torni Dalla mia ragazza Esatto La sua Ragazza Si preoccuperà a morte Se non torno Vede Sto cercando Di rigare dritto La mia ragazza Mi sta dando Una possibilità Esatto Possiamo passare fuori Sarà un cittadino modello Ma è un bravo ragazzo Forse ho fatto casino eh Falli passare Ma sono gli ultimi Grazie signorina Ok Muovetevi Le auguro una buona serata Gente signorina Grande E' andata bene stavolta Non ci hanno ancora sparato Per ora Vediamo un po' come gira Ma lo sai E quando è che non lo sono Sempre Io sono sempre Gentile Vediamo un po' eh Lì c'è qualcosa Nuova area raggiunta Little China O China Little China Little China Macchinina Verde Non c'è nessuno dentro Così Sì Sì Andiamo via Andiamo via Sparano senza sound Quelli sono fottuti Quelli non sono spirri normali Sono Max Tuck I predatori alfa Dell'NCPD Ah quelli sono cattivi eh A Max Tuck Arriva quando le cose Sono fuori controllo Quei poveracci sono solo Uno spuntino Di metà mattina Questi sono i marini I SWAT in poche parole Fine dello show Quei poveri bastardi Se la sono cercata Mi piace che lasciano tutto così Nessuno arriva ambulanze Niente Lasciano lì Passata con lo spolverino Via 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 Qua c'è a 40 metri Salto la corsa Dai Andiamo oltre Senza perdere troppo tempo Siamo arrivati a casa Alle 22 Dall'una del pomeriggio E la madonna Abitavamo dall'altra parte Del mondo Praticamente Vediamo un po' eh Vediamo un po' Grazie signorina Vai piano Con la pene verniciata Vai piano Nuovo livello Punti attivuti Punti talento Come salgo qua Appartamenti Punti tributi Punti cosi Allora Vediamo un po' Nuovo livello Allora abbiamo Fisico Riflessi Freddezza Aumenta il 2% Punti danni critici Aumento tutte le resistenze Danni furtivi Aumenta i danni con I danni con Monokawa No A me interessa di più Capacità di ram Capacità tecnica Ok ho ancora Un punto talento Vero? Un punto talento Pistole Ah Posso fare qua? Oh signore Oh signore Oh signore Ah il punto talento Te lo da qua Assalto o pistole Aumenta il 4% La probabilità di colpo critico Colpo pistole Revolver Induzione il 15% Il tempo di ricarico Colpo pistole Revolver Aumenta il 3% Di danni con le pistole Io tengo questo eh Tengo questo per ora Ma ci sarà Allora è un gioco enorme Sta roba qua dai Guarda quanta roba c'è qui E così sia C'è tanta personalizzazione C'è tanta personalizzazione Allora ragazzi Eh dimenticavo Un runner che conosco Ha qualcosa che ti farebbe comodo Sì? Tipo? Ti mando il contatto Grazie zia Il lavoro che ti ha affidato T-Bug è un passo importante Per sviluppare la tua abilità Di net running Io però per ora Vado a casa Salvataggio Il salvataggio Torna a casa Però io direi che da qua Ci possiamo salutare Ci vediamo alla prossima puntata Ci cacciao Ci cacciao Ci cacciao